Siamo un grande paese che sa essere anche uno strano paese. Gli studenti delle scuole medie e superiori di 180 città italiane, Avellino compresa, insieme ai loro coetanei di altre 1693 città e metropoli di tutto il mondo, manifestano in difesa dell'ambiente globale, così mal ridotto da costituire a partire dal 2050, cioè tra 31 anni, non tra tre secoli, una tra le cause principali di morte degli esseri umani e sui giornali italiani si apre il dibattito su come e da chi dovrà essere giustificata l'assenza scolastica. Ha cominciato il ministro dell'istruzione Marco Bussetti che infilandosi le mezze maniche del burocrate ha tenuto a ricordare ieri che le lezioni oggi si sarebbero tenute regolarmente. Dice la scuola è un pubblico servizio ed era mio dovere ricordarlo a ruota, gli ha fatto eco il presidente nazionale dei presidi Antonello Giannelli, non capisco come dei quindicenni pensano di invertire la rotta, mi viene il sospetto che serve solo a marinare la scuola. In altri istituti scolastici i presidi chiederanno la giustificazione ma senza contarla come assenza, in altri ancora non faranno scattare l'assenza se studenti e insegnanti usciranno insieme da scuola dopo esservi entrati. Si salvano quattro dirigenti di altrettanti istituti scolastici di Torino per i quali l'assenza verrà giustificata d'ufficio, ma chi la dice più chiara di tutti e Giulia Guglielmini, preside del convitto Umberto I di Roma. Essere al fianco degli studenti in queste richieste così importanti è fare la scuola, oggi è bene ascoltarli, è importante capire cosa ci dicono e come lo dicono. Questa preside ha quindi dichiaratamente marinato la scuola a sua volta e si è messa in corteo insieme ai suoi studenti. La stranezza consiste nel fatto che in prevalenza la scuola italiana si è posta in questa occasione il problema della giustifica e non si sia concentrato, lasciando ad una parte minoritaria l'incombenza, sul tema che ha portato i ragazzi a scegliere di stare oggi in un posto diverso dall'aula scolastica. Stupisce questa vocazione che riemerge ciclicamente a fare gli avvocaticchi, un tempo li chiamavamo legulei, che non fa cogliere intanto, come dice la preside del convitto di Roma, come quella di oggi in Italia e nel resto del mondo. È stata invece una giornata scolastica che più non si potrebbe. Chiedere alle istituzioni internazionali e ai Paesi di mettere in campo insieme, prima che sia troppo tardi, decisioni e interventi che fermino la febbre del pianeta che continua a salire. Non è forse scuola discuterne e pretendere decisioni urgenti, non è forse pedagogia e non è affare questo che interessa prioritariamente quelli che oggi sono ragazzi ai quali si sta consegnando il deserto. La faccenda è seria, l'aumento di mezzo grado in più delle temperature, che continuando così è una certezza, farà scomparire il 6% degli insetti e l'8% delle piante. Resisteranno però zanzare e zecche nel mare le meduse con tutte le conseguenze che questo comporta per l'uomo e per la nostra vita. Il progressivo innalzamento dei mari poi che toglie terra, vita, lavoro, cioè toglie il futuro al genere umano. Oggi rispetto a 60 anni fa registriamo e respiriamo il 31% in più di anitride carbonica nell'aria e intanto contiamo nel 2018 7 milioni di morti premature per malattie dovute all'inquinamento atmosferico. La giustifica. Temo che Greta Thunberg, la ragazzina di 16 anni che da 7 mesi ogni venerdì non va a scuola per piazzarsi davanti alla sede del Parlamento svedese mostrando un cartello in cui c'è scritto sciopero dalle lezioni per il clima. Questa ragazza in Italia alla fine sarebbe stata cacciata da scuola per prolungata senza ingiustificata e non, come hanno fatto in Svezia, candidata al premio Nobel per la pace. La scuola italiana che pur tra tante difficoltà è ancora complessivamente in grado di garantire una formazione che ha nulla o poco da invidiare alle istituzioni scolastiche di altri paesi, anzi potrebbe anche insegnare qualcosa. Questa scuola non ha bisogno evidentemente di avvocaticchi, giuristi improvvisati, legulei con le mezze maniche dei burocrati. Questa scuola invece ha bisogno di assecondare e aiutare a crescere la consapevolezza delle giovani generazioni su questi temi perché questo protagonismo dei giovani studenti italiani e del resto del mondo, sempre più e meglio avvertito, aumenta fin quasi ad essere decisivo il potere contrattuale di chi nei singoli paesi incalza i governi sulle politiche energetiche e sullo sfruttamento delle risorse naturali. Un bel segnale che coincide con i Fridays for Future viene dal Vescovo di Avellino. Monsignor Arturo Agiello era partito con una aiuola di Piazza Libertà e si allarga a Parco Palatucci. Ha chiesto infatti al Comune che gli venga affidato per i prossimi 30 anni questo polmone verde di 20.000 metri quadrati, peraltro vicino alla nuova sede del seminario, aperto nel gennaio del 2001 e poi progressivamente abbandonato all'incuria e al vandalismo, tanto da farlo diventare un luogo caldamente sconsigliabile. Questa iniziativa del Vescovo che dopo l'aiuola adotta un parco per curarlo, renderlo fruibile, destinarlo alle attività dei giovani di Avellino e della diocesi è intanto un atto di amore per il quale il Vescovo va ringraziato, rivolto agli avellinesi, ma anche un esempio se non proprio un insegnamento, quello di avere cura di ciò che appartiene a tutti, di difenderlo e conservarlo per spronare anche ognuno a spendersi con una qualche gratuità per un bene che ci rende la vita migliore senza possederlo concretamente. E quanto sarebbe migliore la vita, la nostra e quella degli altri, se nelle azioni quotidiane ci comportassimo, come fa il Vescovo Arturo, da custodi e non da imbrattatori e dilabitatori di beni che ci sono stati affidati per essere trasferiti e consegnati in eredità alle prossime generazioni. Dicevamo delle giustifiche in provincia di Avellino, aspettiamo quelle del Ministro Toninelli e dei dipendenti indigeni della Casaleggio Associati. Il Governo sta mettendo a punto, con la solita fatica, il cosiddetto decreto sblocca cantieri che dovrebbe mercoledì prossimo approdare in Consiglio dei Ministri. Un testo ufficiale ancora non c'è. Stamattina Conte, Di Maio e Toninelli hanno incontrato i costruttori di Ance, Confindustria, CNA, i sindacati, i presidenti delle regioni. Il problema vero è un altro. Anche sullo sblocca cantieri i due alleati di governo non si trovano e anche in questa occasione, speriamo che non sia così, finiranno per trovare un compromesso al ribasso che consentirà loro di andare avanti e di superare anche quest'altro scoglio. A furia però di privilegiare la permanenza in vita del governo sulla appropriatezza delle decisioni e delle misure che il governo assume, anche sullo sblocca cantieri, il rischio è quello di partorire un provvedimento incerto, contraddittorio, sghembo, difficile poi da governare e da attuare concretamente. Le conseguenze di questi compromessi che di volta in volta salvano la vita del governo e molto meno la vita del Paese sono già sotto gli occhi di tutti. Quota 100, reddito di cittadinanza, decreto dignità. Per come sono stati congegnati già oggi si dimostrano abbastanza ingovernabili e con il decreto dignità, quello che ha abolito la povertà come era stato peraltro previsto, sono riusciti a fare di più. Dal niente, nell'arco di pochi mesi, hanno creato 150 mila nuovi disoccupati. Lo sblocca cantieri a cui fanno ricorso ed è comunque un bene per tentare di compensare un miliardo e più di euro sottratti agli investimenti del 2019 con la legge di bilancio, divide gli alleati di governo proprio sui cantieri. La Lega vuole allargarlo a tutte le opere pubbliche ferme, anche ai porti e rimettendo in pista la riqualificazione delle periferie, a cui però sempre nella legge di bilancio hanno dato una sforbiciata di alcuni miliardi promettendole di rimetterli in pista tra qualche anno. Quei miliardi sono serviti per sostenere le risorse che servono a quota 100 e soprattutto al reddito di cittadinanza. Il Movimento 5 Stelle vuole invece rispetto alle opere pubbliche che è una platea più circoscritta, non escludendo cioè di considerare inutili alcune opere pubbliche ferme e dunque lasciarle al loro incompiuto destino. Accenni di questo intendimento li abbiamo visti all'opera sulla stazione Erpinia e li abbiamo visti concretizzarsi poi sulla Lioni Grotta Minarda. su una cosa sono quasi d'accordo, i commissari ad acta sui quali Toninelli in queste ore e non all'osteria dice non uno ma tanti super commissari per sbloccare i cantieri che andranno sui cantieri a metterci la faccia e a guardare negli occhi sindaci, comitati, imprenditori e cittadini. Esattamente quello che sui cantieri della Lioni Grotta Minarda ha fatto fino al 31 di dicembre dell'anno scorso il commissario Filippo D'Ambrosio. Toninelli deve portare la giustifica sempre che sia la stessa persona che 74 giorni fa ha mandato via D'Ambrosio determinando guasti incredibili all'erario, all'impresa, alla vita di 120 lavoratori già licenziati. Se è la stessa persona forse la sola giustifica non basta, andrebbe accompagnata anche da un certificato medico. Siamo di fronte ad un ministro che blocca un'opera pubblica su consiglio evidentemente di qualche dipendente locale della Casaleggio e non sa come riaprirla. Vedremo mercoledì prossimo cosa uscirà da questo sblocca cantieri a proposito della Lioni Grotta Minarda. Ricorderete si cominciò con la palla messa in giro da Carlo Sibilia dell'operazione Costi Benefici. Non è mai cominciata anche perché nessuno è stato mai chiamato ad occuparsene e se questo fosse avvenuto avrebbero detto a chi la proponeva, magari allo stesso Sibilia, dai parlami dell'incidente che hai avuto. Poi il ministero, quasi colto alla sprovvista dalle proteste, disse in prima battuta che ad occuparsene in tempi brevi, scrissero, sarebbe stato il provveditorato alle opere pubbliche. Gli unici tempi brevi sono stati quelli della sua sparizione. Infatti al provveditorato fece seguito l'annuncio che sarebbe stato invece un emendamento allo sblocca cantieri a far ripartire la Lioni Grotta Minarda. Un emendamento, tra l'altro, come abbiamo detto, ad un provvedimento che ancora non ha preso vita in un testo ufficiale. C'è però un motivo perché hanno utilizzato la parola emendamento. Avrebbero dovuto dire per la Lioni Grotta Minarda nomineremo un commissario, cosa che probabilmente faranno per questa e per altre opere. Non possono dirlo per non finire sprofondati nel ridicolo, perché quest'opera pubblica l'hanno fermata loro e per uscirne non possono fare che una scelta. Devono nominare un commissario che intanto già c'era, mettendo nel conto un altro eventuale meritato sovrapprezzo politico da pagare, affidare la gestione commissariare alla Regione Campania, cioè a chi, come Vincenzo De Luca, definisce questo come il governo degli squinternati. L'attesa dello sblocca cantieri incrocia peraltro la crisi che dura da anni di un settore strategico e trainante come quello dell'edilizia. Oggi c'è stato uno sciopero generale del settore che ha chiesto al governo di accelerare sul fronte intanto delle opere bloccate e di mettere mano ad un piano di investimenti attraverso la riqualificazione del patrimonio edilizio, pubblico e privato, la sua messa in sicurezza antisismica per concedere respiro ad un settore che negli ultimi dieci anni ha perso, pensate, otto punti di valore che contribuivano al prodotto interno lordo. Un punto di PIL vale 15-16 miliardi, moltiplichiamo per otto e comprendiamo così meglio quello che è accaduto nel frattempo. Nel sud va ancora peggio, in provincia di Avellino il presidente dei costruttori Michele Di Giacomo, più volte ospite da noi, ha parlato non di crisi ma di catastrofi. In un anno, dal 2017 al 2018, hanno chiuso 210 imprese e sono stati persi 3.300 posti di lavoro, erano 6.500 due anni fa, sono scesi a 3.200 l'anno scorso. Bandi dimezzati, grandi lavori pubblici che si contano su poche dita di una sola mano, in un mezzogiorno che invece potrebbe diventare ovunque un grande cantiere. La messa in sicurezza idrogeologica del territorio, strade, infrastrutture, materiali e immateriali di cui abbiamo bisogno nel mezzogiorno e anche da noi come il pane. Ci sarebbe bisogno di un grande piano di investimenti che questo governo, per la parte rappresentata dal Movimento 5 Stelle, frena quando non chiude quelli avviati di fare una grande operazione organica e unitaria sui fondi europei da incanalare in queste quasi esclusive direzioni. Per far questo però serve un governo che non viva alla giornata, che non viva di annunci, che in una parola esca finalmente dalla permanente campagna elettorale. Chissà se le elezioni europee di maggio segneranno un qualche spartiacque rispetto a questi otto mesi che con non pochi brividi abbiamo vissuto sotto i nostri occhi. Questa settimana è stata anche caratterizzata dal dibattito sulla convocazione di un'assemblea pubblica, il destinatario è ufficialmente il popolo del centro-sinistra da parte dell'Associazione Controvento. Abbiamo già detto in questi giorni del balzerino che era cominciato e che per fortuna si è acquietato sulla titolarità di questo o quello a convocare assemblee. Qualcuno nel Partito Democratico si è sentito scavalcato o addirittura l'ha considerata una sorta di trappola, come se in provincia di Avellino il PD fosse nelle condizioni di rivendicare una specie di just prime noctis anche rispetto alla convocazione di un'assemblea. È un'iniziativa che anche i quattro consiglieri regionali irpini, D'Amelio, Petracca, Alaia e Todisco, che stamattina si sono incontrati nella sede del PD di Avellino, valutano positivamente e senza metterci preamboli inutili. Questa, come altre iniziative benvengano, ce ne saranno altre, promosse da altri movimenti e associazioni che guardano alla costruzione di una coalizione di centro-sinistra, poi saranno i partiti, in primo luogo il PD, a dover fare la sintesi e a proporre un progetto politico e amministrativo per le elezioni di maggio ad Avellino. Per arrivare a questo e per l'urgenza che dettano i tempi, chi lavora a questo progetto non può eludere o, peggio ancora, nascondere due problemi pregiudiziali. Il primo sono le pretese o presunte superiorità morali da far valere e far pesare nei confronti di altri. Le alleanze, se si vogliono fare delle alleanze, presuppongono la pari dignità dei contraenti. Se pensi che sei moralmente ed eticamente superiore, devi andare da solo a meno che non trovi chi ti dica la nostra faccia sotto i vostri piedi. Il secondo sono i metodi. Nell'incontro di stamattina Rosetta D'Amelio, che è persona abbastanza saggia e illuminata e non mi pare, anche per i suoi trascorsi, che possa essere annoverata tra gli avversari del cambiamento, probabilmente a proposito della figura che questa coalizione, se si farà, individuerà come sindaco, come candidato sindaco di Avellino, ha detto che chi avrà più consenso prevarrà, chi non sarà d'accordo libero di fare altre scelte. Chi avrà più consenso? Non è che si capisca molto se non si dice chi dovrà esprimerlo, questo consenso. I consiglieri regionali, insieme ai segretari dei partiti e alle associazioni, questa cosa è già stata fatta alcuni mesi fa e con gli esiti che sappiamo se questa dovesse essere la sede individuata per le decisioni, la cosiddetta coalizione perderà immediatamente pezzi e probabilmente si avvierà ad una onesta campagna elettorale di testimonianza, cosa diversa se la sede delle decisioni preceduta dalla sintesi che ogni soggetto della coalizione avrà portato nel frattempo a termine diventa quella aperta e trasparente delle primarie. Non si venga a dire che non c'è tempo a scomodare altri alibi, non sono peraltro un fan delle primarie, sono uno strumento aggiuntivo, coraggioso che i partiti mettono in campo quando godono di buona vita, quando sono robusti e non dilaniati e con coraggio si aprono alla partecipazione e alla condivisione delle scelte che fanno. Le primarie così intese accrescono l'autorevolezza di chi le propone, la potenziale coalizione, il Partito Democratico, in modo particolare questa autorevolezza l'hanno sbiadita o l'hanno persa. Le primarie in queste condizioni dovrebbero aggrapparsi di corsa, poi tutte le scuse sono buone, se non faranno le primarie non le faranno non perché non ci sia il tempo per farle, non le faranno perché potrebbe vincerle chi magari è sgradito a questo o a quello, non credo che così però caveranno un ragno dal buco nella illusione che le decisioni di un direttorio infuse e confuse di superiorità morali andranno bene lo stesso perché nel frattempo il pericolo 5 Stelle ha provveduto a sgonfiarsi da solo e perché il centrodestra siccome non vince mai non vincerà neanche stavolta e dunque vincere per noi sarà una passeggiata. Ognuno però è libero di farsi i ragionamenti che vuole e cullarsi nelle illusioni che più gli fanno comodo. Dicevo del Movimento 5 Stelle a studio sera, ieri è stato nostro gradito ospite Fabrizio Logatto, esponente del Meetup di Avellino, Meetup che proporrà una sua lista guidata dalla candidata a sindaco Tiziana Guidi, difficile anzi già da scartare l'ipotesi di una sintesi con l'altra lista che verrà proposta alla certificazione del Movimento guidata dal sindaco uscente Vincenzo Ciampi e sostenuta dal sottosegretario Carlo Sibilia, difficile perché il Meetup ha già anticipato che l'esperienza Ciampi ha causato l'allontanamento dal movimento di tanti attivisti e di tanti elettori che votarono Ciampi al ballottaggio del 24 giugno dell'anno scorso, ragione per cui chiedono a Ciampi e a quanti hanno supportato i suoi cinque mesi di sindacato di fare un passo indietro, passo indietro che naturalmente Ciampi, Sibilia e gli altri non prendono e non prenderanno per niente in considerazione. Se non dovesse essere scelta la lista del Meetup, questa stessa lista ha già detto che non correrà comunque alle elezioni con altra bandiera, ma non è detto che voteranno quella di Ciampi. Ieri sera Fabrizio ha detto, anche con un esplicito sussiego, di poter garantire per sé, non per gli altri. In questo caso, a differenza del 24 giugno, Ciampi partirebbe da Anatra Zoppa già come candidato e non mi pare, visti i risultati, che possa pensare di compensare con i voti di schiere entusiaste di Avellinesi che non vedono l'ora che Ciampi si ripresenti. Il Movimento 5 Stelle in queste condizioni, è sempre che da qui a maggio non esploda un caso Pallini, la parlamentare riferimento del Meetup che è entrata di recente e anche platealmente nel mirino dei Sibiliani, il Movimento 5 Stelle nelle condizioni che registriamo oggi, 15 di aprile, appare come un dettaglio abbastanza trascurabile della prossima campagna elettorale, senza dire di altri aggravi che si caricheranno sul Movimento per la scelta dei candidati irpini alle elezioni europee. In questo caso gli stracci voleranno dopo il 26 maggio, ma certamente i malumori si faranno sentire e incideranno, credo in qualche maniera in misura, anche sul voto amministrativo. Per il diario di oggi, di questa settimana è tutto, grazie per l'ascolto, buona domenica a tutti voi, arrivederci a lunedì intorno alle 15, sempre in diretta, sempre su Telenostra.